parliamo di quesito invalsi qui presentiamo il grafico di due funzioni la funzione y uguale a f con x e la funzione in rosso y uguale a g con x sono due funzioni pari simmetriche rispetto all'asse delle ordinate e vediamo quello che chiede il quesito allora il quesito dice questo nel piano cartesiano in figura sono disegnati grafici di due funzioni fg quindi questa è la funzione f e questa in rosso la funzione g con x il grafico di f passa per il punto seguente 0 0 5 il grafico di g passa per il punto di coordinare 0 1 considerata la funzione h che è la f a cui si somma una costante a si chiede per quale valore di a l'equazione hx uguale a g con x non ammette soluzioni nell'intervallo tra meno 1 e 5 e 1 e 5 intanto diciamo che hx uguale a g con x rappresenta un sistema tra due funzioni quindi un sistema che risolto per sostituzione porta l'eguaglianza hx uguale a g con x le cui soluzioni garantiscono che tra le due curve quelle nere e quelle rosso c'è un'intersezione geometrica chiaramente se analizziamo le quattro alternative vediamo che quando a uguale a 0 la funzione f con x e la funzione hx sono la stessa funzione quando a uguale a 0 25 la funzione y uguale a fx più 0 25 comunque è una funzione che ha se questa è una parabola il vertice che da 0 5 passa a 0 75 e quindi siamo in questo punto che indico in rosso per cui c'è un'intersezione e non va come soluzione perché noi chiediamo per quali valore l'equazione hx uguale a g con x non ammette soluzioni quindi si scarta 0 si scarta 0 25 scartiamo anche 0 5 perché se qui metto 0 5 la f più 0 5 fa sì che è il vertice da qui passi nel punto di ordinata 1 quindi la parabola a questa situazione a questo grafico per cui c'è un punto di contatto quindi non è che l'equazione h uguale a g non ammette soluzioni l'unica risposta plausibile può essere la se io ad a do il valore 0 75 praticamente il vertice della funzione in nero passa da questo punto a questo a questo punto per cui in questo caso tra il grafico diciamo della parabola in nero il grafico del g con x non c'è intersezione né intervallo tra me 1 e 5 e 1 e 5 di ascissa quindi questo è il ragionamento che dobbiamo fare qui rappresento graficamente la situazione quindi questo è il grafico visto prima dove si vede che quando a uguale a 0 questa è la situazione abbiamo comunque due intersezione qui non va bene qui invece rappresento il caso in cui intervallo tra me 1 e 5 e 5 delimitato da queste due rette in verde dando ad a il valore 0 75 la il vertice di questa parabola è al di sopra della funzione in rosso per cui non essendoci intersezione geometrica possiamo dire che tra i quattro tra le quattro alternative fornite questa è l'unica che fa sì che la curva non interseghi la curva nel senso la parabola la curva con cavità rivolta verso l'alto non interseghi naturalmente la funzione in rosso e quindi la risposta è la lettera la prima a uguale a 0 75 io scrivo che la funzione hx che è l'intervallo x compreso tra me 1 e 5 e 1 e 5 non soddisfa l'equazione gx uguale h con x ha il valore di a pari a 0 75 con ordinata pari a 1 punto 25 è evidente che se io ad a do il valore appunto 0 75 l'ordinata che prima si trovava qui a 0 5 sommando 0 75 passa a 1,25 e quindi siamo comunque al di sopra del vertice di questa curva diciamo più che vertice con questo punto di massimo relativo che questo della funzione in rosso siamo al di sopra per cui non c'è intersezione geometrica con questa risposta terminiamo la video lezione e si invita uno a consultare ulteriori video lezioni sul canale youtube petraio francesco fine della video lezione